FIMO STAIR FIMO STAIR FIMO STAIR FIMO STAIR FIMO STAIR Ciao a tutti, ben ritrovati. Ho già caricato un nuovo video, come potete vedere. Giusto per farvi dare una panoramica, per farvi vedere quello che faccio. Ossia i Folletti sono le cose che mi piacciono di più. Folletti fate, Elfi eccetera eccetera. Alcuni fanno anche un po' impressione, mi hanno detto. Però sono piaciuti. Bando alle ciance, questo è il video. Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.